Ciao a tutti ragazzi, posso parlare? Sì? Ok, io sono qui per te, l'ho detto Muovite che tu parla Muovite che tu parla non si sa Anche le cose che il cuore Non si sono bille Sì? Usa Sì, l'ultima Sì? . Mioiru ishi wa nao mo takaburu Sinzuru monogatame ni kaku mo tatakau Colui che combatti anime e corpo per le persone in cui crede Sono mono eiyu E' un eroe Così va detto Naruto I giorni passano C'è del posto al futuro Non tramonta Nella nuova era Trossante L'eroe della foglia Naruto Son mono eiyu Questo è l'eroe Naruto Naruto Le foglie Le foglie C'è un po' di vento Sono un nuovo Naruto Zumaki No Non lo dice La canzone di ramen C'è un po' di vento 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 E'oo sei un'equile Non mi Multύ il Fatema Non mi 85 Non mi Imamato Ma non mi ragazzano Non mi haar Il senso che il nostro corso, il nostro corso ha di salvato la regla. Ghe, il mio senso è che si diceva. Il mio senso è che qui si diceva. Il mio senso è che cosa succederebbe, ma non è vero. Ma, tu la casa di salvato la cosa è vero? Che cosa succede? Non me lo invece mica. Wessi? Sì no? Noi. Hè? documento? Un'gravitù con una volta in una rauro, fino al 1 minuti. In un' Herrore. Che cosa succede? Così è come la vita. Non si accade. Ma poi, aspetta, l'arrivo. Poi, come si stanno? Mettetevi! Laamene-chan! Madonna! Che animazione terribile! Poi, come si stanno? Laamene-indipendente! Laamene-indipendente! Dai, dai! Vuoi giocare? Oh! Ci fanno giocare? Laamene-indipendente! Non so quanto! 3 minuti! Ok! Ma ho appena iniziato! Dai, dai, dai! Ehm... Al momento della crescente! Ah, posso muovermi? Per il villaggio della foglia! Chi fa vuoi dire l'evento di l'icona? Ah, ok, quell'icona... L'evento di l'icona... Tre tipi di mappe! Una mappa di tagliare le cari... Ove ti trovi? Posere il pulsante Back per passare... Select, sarebbe... Sì! Back? È smart o select? Oh, e beh! Oh! Ho capito! Oh! Io posso anche saltare! Ma però, perché l'arga non lo so! Ehi Naruto, come stai? No! Ah, la sua mia mappa mi dice dove devo andare, ok? Andiamo a prendere ramen! Andiamo a prendere ramen! Andiamo a prendere ramen! 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 Dobbiamo dividerci! Tu vai a nord e a sud! Ma che so? Ah, Kotsu e quell'altro mi ricordo! Izumo! Siksik! Yo! Cosa hai da sospirare? Ragazzi, dobbiamo parlare! Questa succede? Che succede? Che succede? Cioè... Mmm... Dei piccioni viaggiatori! Posso sfidare le sue? Poi gli sto leggendo anche gli ultimi capitoli che stanno uscendo gli anime! Non vi dico niente perché non voglio spoilerare! Vieni, mi ricordo che gli succede, Sasuke riii! Grazie Naruto! Ha che gatto scala mettere la gamba a berruccelli! Vieni, gamba a berruccelli! He 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 he! Basta! E mi è neanche il vaso non di pieticare di prenderlo! Va bene! La zimile dava a luiuto! Andiamo! Quindi dobbiamo prendere il materiale con il vaso Ok Vediamo il mulch Vai alla porta della foglia Ok Ha detto prima che ho distruggito questo no? Rompi il vaso Prendi i mazzi Ah Ok Ok Non prendi carino di un cielo Quindi oggetto in conti si possa Sì vabbè L'avevo capito L'hanno preso il materiale Deve una sola cosa Sì vabbè La porta della foglia Ah devo tornare indietro Aspetta cos'è quello? Cos'è? Centurio Solvio Monal No non di qua Di dov'è Di qua Ah lo andò dritto Fa un culo Da tanto Madonna Stanno calando gli FPS in mano Oddio aspetta Stanno calando gli FPS in credito Ok Magliamoti Magliamoti Yeah Madonna quanto lagga Vabbè scusatevi Oh Tenten 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 Si uscirò Sono un'attrezza ninja Non è facile Tra le cose Si va Ciao Tenten 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 Ci siamo Tenten Tenten Ecco fatto Tenten 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 Tentan Tenten 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 Čggeri A non so da quanto sto registrando sono 10 minuti? No, non credo guardate che sto registrando non lo so dai 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 da 8 minuti, 5 minuti lo so perchè non ho un coso da 8 minuti mi sto facendo quell'orario sto dobbiamo caccolo quell'orario no, dove sto andando? no scusate il calo degli fps ma non so che fare beh, un po' si può reggere, scusate perchè non sto registrando da playstation e non posso portare la pc perchè no non ho l'hdpvr di qua no di qua no, non ha bene ma bonna sta visuale sentite di passi sentite di passi oh ecco l'ameni shiraku oh, sembrivasi ok, yes mai? sti 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 Che cosa succede? Un gattino molto bello. Do… 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 Ah, sì… Killer B. S… Sasuke… Akatsuki? Nonde? Eh, non lo so! Non lo so! E' il fratello che è Killer B. Non lo so ancora che è Killer B. Vabbè, chi non lo sa, Killer B è il fratello dei reikage. Vabbè, chi non lo sa, Killer B è il fratello dei reikage. E' il reikage si chiama Ai. Ah… Si, si chiama Ai? Vuoi fare un film? Si, Ai. Ah… Orè mui il so n'icco, te ma… Ma te! Ma te! Ikinari donarikondemo… Ma… Cono ma ma ja Sasuke wa… Ma te! Ma te te. E' il te! Ma te! E' il s'y… E' il riso… E' il riso… Ma te! E' il riso! E' il riso è duro di! E' il riso è benissimo! Ok. E' il riso, qu'è quello è quello? C'è, in c'è, come il riso, T'è il riso. E' il riso. Vieni, ho capito. Anche io ho capito. Quindi? Chi è? Danzo? Danzo様, la preparazione è preparata. Danzo, Danzo è tutto pronto. Pezzo di merda. Danzo Shimura. Anche io è venuto. Ma Danzo? Che poi Danzo ha... Vabbè, se non sapete la storia, me la voglio dire. Però va bene, non va bene. Anche io è venuto a visto l'anime, Danzo ha ordinato di uccidere il clan Ucciro. E veramente tutti gli shurigan ce li ha lui su un braccio. e più ha l'occhio di Shizui e poi mi senti una benda Shizui è un vecchio amico di Tucci che si è ammazzato non so perché e ora? ma voglio farciare no Danzo è forte capitolo 1 la conferenza di 5 kage sono 12 minuti di registro? non lo so credo 12 minuti ma andiamo avanti sti cavoli arrivavo a 16 minuti ma io proprio non ci riesco ora la scena di casa di Naruto non era così? non era proprio così in casa poi Naruto come si è comprato casa non si sa senza genitori boh vabbè i soldi chi gli addali senza lavorare forse maestro boh Iruka boh ma esigenza Okage vedi Danzo oh si mi voglio dare di saprata ragione a quelli stronzo a quelli stronzo non so se entreranno per quel video non ti adesso ne registri su lui un altro ne so non so se finire qua ehm sapete che non lo so perché sono 14 minuti forse che registro ma andiamo avanti poi non so 14 minuti sono solo 10 minuti che registro ma andiamo andiamo su 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 ma le signori io non ti faccio passare no 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 guarda lo cambia strada ha un'intelligenza artificiale oh mio dio lo parla con Danzo e convincio a perdonare Sasuke ok non so se questa parte ve la taglio dove io vado lì ma che lo parlo di chi un'intelligenza artificiale Andiamo, muoviti, muoviti, muoviti No, dai, 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 dai No, cosa c'è lì? Ma quali sono i negozi? No, si può bene i negozi Noi, 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 noi Muoviti, muoviti, dai, 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 dai Eccoci arrivati da Dante Dov'è? Sì Ma che vuoi, Yamato? Sì, in modo a filtra un po' il video Vai, dai Magari quanto si registrano, maledizione Ancora venti minuti, dopo Dai Mi posso saltare Mi posso saltare Il filmato, dai Quindi Che fa? Combattere Ti faccio il culo Ma però se così Ti è? 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 no, apri l'inventario dai dai su, voglio fargli il culo a strisce oblique dai dai faccio stagli e poi te rompo il video dai si Sì, 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 sì. che si trova c c va veramente grande sveglia mamma mia masaghi vai 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 e te spiagli e te spiagli Non lo prendo! Ma non è che casino! Quanto odio! Non lo prendo! Non lo prendo! Mamma mia! Perché non ci senti più la musica? Ok! Ok! Adesso facciamo il video! Io direi gli fighi il video qua! Quindi... Alla prossima volta! Ninja Storm 3 Che dovrebbe esserci ogni giorno! Se Dio vuole! Addio da Creeper! Ciao! 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 Ciao!